A Podenzano è stato inaugurato il Centro Padel Piacenza, uno dei circoli italiani in cui si gioca padel, una disciplina sportiva tra il tennis e lo squash. A Podenzano, il circolo dedicato al padel, è nato il Centro Sportivo Comunale Valla, che già ospita numerose attività e dove domenica pomeriggio sono stati inaugurati due campi voluti fortemente da Daniele Margarita, che ha investito economicamente per realizzare l'opera in un progetto in sinergia con il Comune di Podenzano. L'attività del Centro Padel Piacenza sarà portata avanti insieme al campione italiano e bronzo agli europei Simone Cremona, Ponte Nurese, che ne curerà i corsi e che domenica si è impegnato a far innamorare i piacentini di questo sport. L'inaugurazione è stata l'occasione per il sindaco Alessandro Piva di candidare ufficialmente Podenzano ad ospitare la nazionale maschile di padel per il ritiro in vista dei mondiali che si terranno in Paraguay dal 28 ottobre al 4 novembre 2018, una candidatura che il CT della nazionale Gustavo Spector, presente all'evento podenzanese, trasferirà alla Federazione Italiana Tennis. I presenti hanno poi potuto godere di una dimostrazione di padel, uno spettacolo sportivo grazie ai campioni di padel Simone Cremona, Filippo Scala, convocato per il raduno delle nazionali in vista dei mondiali in Paraguay, Alfonso Viuda, campione di Spagna e del torneo internazionale Foro Italico 2018 e lo stesso Spector, dal 2014 allenatore della nazionale italiana. Io sono veramente felice perché la location è bellissima, passerò l'invito di ospitalità alla federazione, speriamo di tornare con i ragazzi della nazionale, così il piacentino ha la possibilità di vedere il miglior padel d'Italia. Grazie.